Benvenuti in questo nuovo video di Roblox Quest'oggi dobbiamo potenziare la nostra spada Renderla sempre più potente Per sconfiggere mostri sempre più potenti Coprire pet sempre più potenti Diventare sempre più potenti E conquistare i regni più potenti Per diventare ancora più potenti Che bello fare riassunti Me ne vado, ciao, non ti ascolto più Allora, la prima cosa che dice è di fare swing Ok Ok, hai fatto swing, Fere Più paurai, più fai danno con la tua spada Ok Da questo tipo, invece, penso che possiamo prendere una bella missione Che ci permette di guadagnare E ci dice sconfiggi sei goblin Perfetto, il problema è che non faccio danno Ah, dai, pensavo peggio in realtà Ah, vedi, ad ogni swing aumentiamo di uno il danno che facciamo i goblin Ma sei sicuro che riusciamo a sconfiggere? Ah, beh, sì, dai Gli ho visti mille di vita, mi sono spaventato Ho detto, ma ce la facciamo Occhio perché mi ha dato una nuova arma che fa leggermente più danno Ok, devo controllare il mio equipaggiamento In questo caso ad ogni swing aumento di tre di danno Perfetto Ok, sto diventando sempre più potente Quindi i goblin schiattano sempre più velocemente Ho sbloccato anche una vecchia spada Che però fa due Mentre il nostro pugnale fa tre Quindi teniamo il pugnale Ma non abbiamo un pugnale O l'hai trovato? Ferre, ce li hai? Alla sinistra C'è negozi e poi armi Ah, no, adesso sì Li ho trovati Perché in realtà avevo solo la vecchia spada e la spada di legno E adesso sicuramente li ho trovati combattendo i goblin Più, 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 più Equipaggio al meglio Va, facciamo così Mettimi l'arma migliore che ho Mi va benissimo Ho finito la missione Ok, penso di sì Mi sta dicendo di comprare un pet E compriamolo, va Infatti anche io vorrei comprare un pet Allora, vediamo chi mi capita Lucertola cornuta Che ovviamente è il comune Ovviamente E ha dato un gatto Ho vinto io per È molto più carino Allora, cosa vuole qua? Armi Ok, equipa Newsword Sì, l'ho già fatto da solo Non c'ho bisogno di te Capisci? Quindi riequipaggiami questa Grazie Adesso mi vorrà dire Comprati un pet Become more powerful at the upgrade shop Dov'è fare il negozio dei potenziali? Penso qua Qua, aggiornamenti Ah, eccolo Arrivo, arrivo Allora, non capisco perché il tutorial in inglese e la mappa in italiano Comunque Le solite traduzioni fatte male C'è il potere Più spazio di archivazione Ah, sia per le armi che per i pet No, secondo me guadagno di potere Potere Credo sia più importante così se devo sparare Ah, per uno potenza Chissà come funziona Lo scopriremo Però sciuttiamo tutti adesso Quindi Direi che va bene Quanto toglie a colpo? Eh, non lo vedo Te lo scrive in arancione 379, 380 Dipende dal colpo Perché fai molto qui, beh? Eh, adesso Addirittura 400 Ma io sono a 300 Non lo so Io aumento ogni volta Adesso sono a 470 Ok Credo che dobbiamo iniziare ad affrontare gli orchi Eh, io sto facendo gli orchi, infatti Ok Io ci metto un'eternità in mezzo, però No, io li faccio abbastanza veloce Io lo metto a tolgo 500 100, dai Allora Ho capito Dobbiamo andare a comprare altri pet Uh, mi ha dato un'arma potente Spada a doppio taglio Per un'arma che toglie 17 a colpo Eh, vabbè Perché? Rarità epica Dove l'hai trovata? Eh, combattendo un orco Ma porca miseria Io ho ancora le armi che fanno tre Tre di potenza E poi si lamenta E poi si lamenta Datemi anche un bel pet fortunato No, ho tratto la lucertola Ho ancora soldi Però io vado comunque a potenziarmi un pochettino Perché ho un sacco di soldi Ho 5.000 Io sto provando a comprare i pet Sono più scriptati Dello script stesso È normale? Sì, farine Ho comprato 6 Sono tutti comuni 6 C'è un limite Io di nuovo la lucertola cornuta 7 pet comuni Va bene Me ne vado Prendiamone un altro Ho imparato la lezione Allora, ma tu Sei contento che io ho fatto qualcosa? No Assolutamente no Che io ho fatto qualcosa Ma che mi significa? È perché Ho trovato il pet leggendario Eh Il pipistrello notturno Quello che dovevo trovare anch'io L'equipaggio al meglio Bello 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 Allora, andiamo anche a potenziarci Perché siamo ancora pieni di soldi Vediamo cosa possiamo prendere Io spero che Ferro non troverà la mia arma Allora Io direi di nuovo il power Ok Ma abbiamo altre zone Perché io adesso tipo i goblin Li sciolgo Eh Ferro ma se killi gli orchi Ok Droppi armi Io ho droppato anche un'arma da 10 Eh Io non è droppo però invece Se voi facciamo gli scambi Aspetta Più 13 potenza mi dice Vuoi fare gli scambi Equipaggio al meglio Allora, ritratura da più 13 Mmm In realtà no È confusa la ragazza Sì Non capisco dov'è la potenza Perché mi ha detto più 13 potenza Ma poi in realtà Io l'arma che vedo Più potente Che ho nel mio inventario È 3 potenza Il pugnale osseo Ok Quindi non ho capito Va bene Non vedi armi blu o epiche? No Ok Allora evidentemente non l'hai trovata Sì Sì Allora No dai basta raga Ho preso 100 pet Non riesco a trovarne uno Un minimo decente Ho trovato una mazza Ho trovato una mazza Ecco Ecco Quella a 10 Ecco Ecco Io ho quella da 17 Posso vendere tutti quelli che non mi servono? Ho trovato Sì Hai visto che bella l'animazione di quando trovi bei pet Comunque Sì È molto carina Allora disequipaggia Equipaggia Ok finalmente abbiamo un pet decente Adesso vediamo se qua riusciamo a potenziare la nostra potenza Assolutamente sì che ci riusciamo Come si va alla zona successiva Detto che lo stava chiedendo Fere Andiamo a controllare Non è che Fere è questo portone qua gigante? Potrebbe Non lo so Allora Ho un'altra missione da prendere Ci sono un sacco di cose da fare in realtà Fere Quindi Missione Sono andato in un posto strano Ok Non me ne dai un'altra? È tipo un dungeon Ma è figo Come si è finito Credo sia un dungeon questo Posso andare? Non posso andare Ok Non venire in questo portone gigantesco Ricordatelo Allora Ok cavalieri oscuro Li riesco a far fuori E sicuramente ho la chance di trovare delle armi Qui ho trovato per una spada di pietra Che toglie 6 Terribile Quindi continuiamo ad utilizzare la nostra E vediamo se siamo fortunati a trovare Comunque Un'arma più potente Non penso ci siano zone da sbloccare Ma che semplicemente tu vai avanti No 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 ci sono zone Ok Sono sicuro Perché vedi che lì poi ci sono tutti i cavalieri oscuri Che Non gli faccio danno Però pian piano ce la stiamo gestendo Sai che ho scoperto che se hai 5 della stessa arma Mi sa che la puoi rendere divina Ah io le ho vendute tutte Questo può essere un problema Ho trovato anche un'arma leggendaria Steph guarda Aspetta Guarda la mia spada Guarda che bella Steph No un attimo E guardami il secondo Ho potenziato il martello È lo spadone Sì Che spada è quella Quanto toglie Tantissimo Aspetta te lo dico 50 potenza Eh 50 È leggendaria Come l'hai troppata Col cavaliere oscuro Stupida Col cavaliere Oh 45.000 Non ce l'ho Allora posso avanzare Tanto sono potentissima Sei potentissima Eh sì che sono potentissima Allora Ah vedi che dobbiamo fare sto boss Comunque Eh lo so Baglia del teschio 500.000 monete Quindi le zone ci sono come Fere se mi rubi ancora Facciamo il boss Vai Io ti spacco Io ora farei il mio Ciao Ognuno fa il suo Ma non ce la faccio Appunto Credo Cioè ce la posso fare Quanto toglie a colpo Eh non lo vedo Sono troppo veloce 34.000 Io 60.000 Ok allora che vuoi Sono più potente Che poi lo vedi anche Se guardi il mio personaggio Si vede Perché io vedo Quanto tu stai facendo Quindi non c'è bisogno Voglio richiedermelo oggi Due secondi Sto vincendo Fere Sono più potente Io devo andare a potenziarmi adesso Perché ho troppi soldi E quindi voglio andare a potenziarmi Devo comprare i petto Per trovare solo quelli comuni Perché la mappa è scriptata Allora Dai e muori Porca miseria Quanto tempo ci vuole Ok l'ho finito Spada doppio taglio Ok E ne abbiamo tre Ragazzi se arriviamo a cinque Facciamo l'arma divina È qualcosa di incredibile Ok mi è ridato un'arma Ma dai Un'arma così triste Ci si può teleportare a casa Tipo Questo cos'è Questo mi sa che è il reperto Aiuto Stavo per cadere giù dalla mappa Credo che dobbiamo Camminare Eh Temo di sì Temo di sì Occhio dell'eroe Ho trovato una nuova arma Cos'è l'occhio dell'eroe 28 di potenza Bello Ok Ok Fere con 50 Ha avuto una fortuna Che è veramente È qualcosa di incredibile Allora Vediamo Questi pet Da 50 mila Ne prendo uno pure io Vediamo Solo uno Io ne prendo di più Ho trovato il goblin bambino Che è rarità Ah perché è raro il minimo Ho trovato il ragno raro Dai ne prendiamo un altro Ragno raro anch'io Mi sento fortunata Dammi almeno un epico Per darlo Tigre epica Tigre epica Allora non ne prendo un altro Perché voglio spendere Nei potenziamenti E ho 65 mila Quindi ci prendiamo 15 mila di potenza E facciamo Anche 50 mila di potenza Arriviamo a potenza 4 Briscola Adesso ci mettiamo I pet Migliori che abbiamo Perché possiamo revertare però Sì ho visto Io ci sono quasi Ma no scusami Sì l'ho fatto Ma perdi tutte le armi? Eh no le armi no Ok Quindi il revert più semplice del gioco Ok facciamolo C'è sciotto già tutto Vabbè Ma questo è il revert migliore Che abbiano mai fatto Ok Ma ti rimangono anche i pet Aspetta Devo per forza vendere le armi E come fai a vendere tanto? Eh Allora devi Selezionare il tasto Vendi E poi le clicchi tutte Ok Eh perché Qua sono pieno di schifezze Guardate quanti ne abbiamo Tu come hai fatto a potenziarle in realtà? Eh Premi E ti dice che puoi renderle divine E segnali almeno 5 1, 2 Eh ma dove? Ah divino 5 Vedi Ce li ho Allora Ma Dovvi sembra che sia diventata una bella spada No ma diventa più forte Però il problema è che tu ne hai una troppo forte Ferre secondo me Esatto Hai avuto veramente Ok le ho rese un pochettino più Ok Potenti Diciamo che sono diventate blu E pian piano se le rendi blu Poi le passi a viola Eccetera eccetera Però quella che ho è troppo più potente Quindi in realtà non mi serve a molto Ho 4 spade dopo taglio E non ho paura di usarle Dai basta con sto pugnale osso però Su Eh che cavolo Eh spada di pietra Ok io posso fare 5 spade a doppio taglio Ok E diventa un 34 di potenza Che vi dico Sono molto soddisfatto comunque Ma tu l'hai fatto il Roberto no? Sì Ok Spade a doppio taglio Eccola pure io Sì ma quella tu C'hai quella più potente Però allora Guarda che te le scioglie ormai Mannaggia Ci sono pochi boss Come facciamo qui a diventare più potenti? Eh fai via nella prossima zona Questo è mio No è mio Sono arrivato prima io Non roppere Non roppere Eh ma da qui che faccio 500.000 Steph Cioè Beh vabbè quanto hai? Divento vecchia qui 256 E allora dai No effettivamente si fanno tanti soldi dai Quando fai il boss devo dire che ne fai tanti Esatto Il problema è che tu hai molto più danno di me al momento Guarda c'ha 360.000 di potere Vabbè Steph lo sappiamo che a livello di potenza No a livello di stupidità Sono sempre migliore di te Altro che Hai avuto una fortuna a trovare quell'arma incredibile Ascolta sei sempre tu quello fortunato Per una volta che mi va a fare qualcosa Non ti vergogni Non provare a lamentarti Io provare vergogna della fortuna No tu devi provare vergogna Dovresti essere felice Te lo rubo Non mi rubare i boss Vai a farti l'altro Non mi rompere le scatole Ti rubo questo No 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 Tutto mio Ciao perdente Me ne vado nella prossima zona Non ti voglio più vedere Ciao Conferma Andiamo Forza Ok Cos'è che c'ho qua? 4 di 5 Uh 5 di 5 Il gioco sta cercando di corrompermi Dato che perdo controfe Non sono interessato Anche se questa spada è veramente incredibilmente bella Allora Buongiorno Combine i tuoi animali normali in shiny Ok Ok Tipo Io faccio così Vediamo 50% No questi sono potentissimi Ok Che script Cioè Guarda io veramente ti voglio spaccare in due mappa Vai 60% Voglio proprio vedere Eccoci qua Lo script della vita Adesso li fa fare e li va subito Artigianato Complimenti per questa bellissima mappa Sono veramente euforico Sono veramente euforico Mi ha detto successo Ecco Cosa ho fatto? Mi ha combinato i pet Ok Niente sa quello che fa questa qui Eh io clicco Questo fallimento mi ha dato Proviamo un altro L'ultimo Eh ma quanto è diventato potente? Non lo so Non l'ho ancora visto Ok Due fallimento è successo Ok Allora Andiamo a vedere i pet Dai levati Vai 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 Le schermate che non vanno più via Vai 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 Eh va Ah no 2.4 Però boh Non mi serve Puoi permetterti il paradise egg Ah ok Allora io 5 milioni Quindi compriamoci un pet Sì anch'io me lo compro Adesso Ferre troverà quello fortunato Io troverò quello sfortunato Comune Scimbia Vediamo Però sicuramente più potente degli altri Poro Comune Allora Facciamo così Vorrei potenziarmi Stef Ma non voglio tornare alla prima zona È un sacco di strada Ferre Ferre Sei ancora debole per queste mappe Sei ancora debole Anche quando hai fortuna Ok sono tornata Stef Ma non rompermi Stef Avanzo e ti schiaccia Mamma mia che noioso Mi dispiace Ferre Mi dispiace Quando capirai Sarà troppo tardi Ferre Capisci Me ne frega nulla Sarà troppo tardi Allora potenziamoci Martello di bard Ho finito tutti i potenziamenti Ah Bene Sono più difficile Quanto togli? Ah 150 No aspetta però come torno Alla baia Ma come sei tornata? C'era il teletrasporto Però non so come tornare Senza farmi tutto a piedi Ferre ma mi sa che qua c'era L'aggiornamento delle statistiche Ah devi arrivare a livello massimo lì Per poi fare questo Ok fatto Come hai fatto? Ci sono i portali Ok Trovati i portali Tu non mi dici le altre cose Trovateli Ok Vuole fare l'antipatica Però sono molto più potente di te Mi dispiace Allora Vai power gain al massimo Facciamo anche più spazio E facciamo anche ovviamente più corsa Allora Perché tanto ci possiamo permettere tutto Ok Teoricamente siamo più veloci A me non sembra Baia del teschio 500.000 monete Ok perfetto Eccoci qua Guarda c'è un parkour E di lì c'è un ride Ok andiamo a farlo Andiamo a provare a farlo? Sì vediamo che cos'è Non so cosa sia Ma sembra bellissimo Ma cià facciamo con un salto Secondo me no Vero E come No ti fa andare No sei morto No niente E come c'è Amici Probabilmente dobbiamo potenziare la nostra velocità per riuscire a fare quel salto Ah puoi No io l'ho potenziata al massimo Io ho potenziato Il potenziamento della seconda zona Fere Eh lo so ma ancora non me li posso permettere Costano un sacco Appunto Però servono quelli Capisci Sì Allora facciamo così Velocità di marcia Ok l'ho preso Il cuffo Sium Il cuffo Io mi sono potenziata Stef Se vogliamo riprovare E dici che sei abbastanza veloce adesso Lo spero Non è che fosse Ho speso tutti i missili nei pet Fere mi vuole risuperare Vuole arrivare all'arma più potente di me Sta stupida Cratila vuole risuperarmi Non ce la può fare È troppo debole Io ho il gufo Adesso vado a comprarmi i pet E spero di trovare quello leggendario Io ho il gufo Muori 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 Ok ho quattro martelli di barde Ah Stef possiamo fare anche il reberto Non so se te ne sei accorto Ma io ce l'ho pronto Non so da quanto tempo in realtà Io per ora lo ignoro Fere Aspetta io Dammi un altro martello Voglio fare prima l'arma Allora Anche io voglio fare prima l'arma Ma il pirata c'ha quattro miliardi e sette di vita Uh l'ho trovato L'ho trovato Il martello di barde Sì Conferma Da quanto diventa Trecento Trecento Sciolgo tutti Ma non ha senso Non ha proprio senso Comunque raddoppia totalmente la potenza Sì Perché la tua spada pesce era cento Diventa duecento Questa centocinquanta E quindi trecento di potenza Dobbiamo trovare l'ultima arma Allora di barde Ok Velocemente Devo andare qua E potenziare La nostra velocità Fere io l'ho potenziata due volte A me non sembra Che cambi molto No Che c'è Ho fallito con un pet potente Proviamo con questo Che magari mi diventa Stra Figo Non fa Ma dobbiamo potenziare Tutti i miei migliori pet Io non ci credo Allora facciamo Sette milioni e mezzo Due milioni Sette milioni E spam compriamo pet Fino a quando non finiamo Vai Gufo raro Naso all'insù Allora vediamo Ma ci sono armi più potenti? Vediamo un attimino qua Cosa diciamo? Diciassette e ventitré Non ci credo Non ci credo Ho fermato a diciassette punto Ventitré milioni Io sono a diciassette punto trentadue Adesso ventitré punto uno Allora vado a comprarmi i pet ragazzi Voglio potenziarmi con i pet Sono riuscito a potenziare cimmia Con il quaranta per cento di drop E' diventato un per nove Fa comunque schifo Ma comunque è più potente di questo Quindi possiamo far così E così E questa è la nostra nuova potenza Perché trovo solo pet orribili? Adesso facciamo Il rebirth E riandiamo Una nuova arma ho trovato Quanto fa? Aspetta Vediamo un pochettino Pezzo d'oro Trecento di potenza Come la mia Eh però penso a potenziarla Esatto Quindi Se se ne trovano tante È un'arma blu Quindi rara Ma come fai a killare quelli? No non ci riesco Ah ok Solo che lo voglio fare Per trovare un'arma migliore Perché sono ferma Con quest'arma qui Staph Eccomi Buongiorno Cioè secondo me ha senso Perché così se iniziamo a trovare armi migliori Vediamo chi la trova Quanto ci vuole Eh sì E dire che togliamo 25 milioni a colpo Ma sto cosa ha 4 miliardi e mezzo Ok Ci siamo Ci siamo Scende sempre più veloce Grazie alla nostra potenza Incredibile Pesce spada Dai Dai Ma con tutta sta fatica No Io però mi equipaggio il pezzo d'oro Perché secondo me è più bella Non è vero In realtà Però vabbè Ok Allora vai 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 Niente Yes Io no Pezzo d'oro Io no Ok E droppa E dai con questi pesce spada Oh ascia del pirata E quella fa ancora di più Oh no 500 500 Che fortuna 500 Guarda Voi li sciolgo Ferre guarda che non ti aumenta il danno Quando le vuoi capire le cose delle mappe Aumenta quanto tu aumenti il tuo danno ad ogni colpo Quindi non è che il danno è immediato Non rompere Ok Sono potentissima e sciongo tutti Questo è un dato di fatto e non lo puoi cambiare Ho capito Anche se mi contesti in realtà faccio più danno di te No faccio più danno io al momento Poi fra poco mi superi Guarda Eh Tu non li fai così veloci Io faccio 80 milioni Non li fai così veloci boss Ferre faccio 80 milioni Non li fai così veloci Guarda Leggi il mio numero Bugiardo L'ho trovato un'altra Aspetta Questa è viola 800 di potenza Stai scherzando 800 Steph Stai scherzando? No Non è possibile C'è il super capitano Tanto non ci servono Troppo mannaggia Troppo mannaggia Stai scherzando un'altra Tutto cimia Tutto cimia Tutto cimia Tutto cimia Qua 18 quello epico Non so Bene Equipaggia Equipaggia Ok Ci fermiamo Ci vediamo in un prossimo video Ciao 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 Ciao